Vivono ancora meglio i pazienti, e non solo i pazienti, ma anche i medici, i paramedici, gli infermieri, tutte le persone che fanno parte dell'ospedale policlinico Sant'Orsola di Bologna, vivono meglio perché Antonio Gangemi, che ho qui seduto davanti a me, l'eroe di cui ho parlato quando ho lanciato la puntata, è professore associato di chirurgia generale presso l'Università di Bologna e responsabile della piattaforma di tecniche chirurgiche interventistiche innovative Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Ben arrivato! Grazie. Sapete da dove arriva questo signore, poi lo chiamo ovviamente professore, ma è un signore, dagli Stati Uniti d'America, dove ha vissuto, lavorato, agito per quanti anni? Quasi 19 anni. Quasi 19 anni. Ha fatto una specializzazione avveniristica, come si fa da quelle parti, e ha trasformato in una green card, per chi non lo sa, ci hanno fatto anche un film sulla green card, cioè avere la green card in America vuol dire che hai cinque volte il passaporto, perché è qualcosa che ti permette di vivere e operare negli Stati Uniti. E lei che cosa mi fa, professor Cangemi? Torna in Italia? Sì, torna in Italia. Perché? Ringraziandola, ma perché? Intanto perché amo il mio paese, anche con tutte le sue contraddizioni, la nostra cultura, la nostra lingua, e ho grande rispetto dei colleghi italiani, credo che ci siano delle eccellenze straordinarie, non solo nel campo della chirurgia in Italia, delle quali noi dovremmo andare orgogliosi. Purtuttavia, carriera costruita a Chicago, Università dell'Illinois, quest'uomo lavora con la chirurgia robotica, quindi neanche Spielberg riuscirebbe a spiegare bene con un film ciò che fa questo signore. Ci devo provare io a parole. Ha una famiglia bellissima, ha tre figli, ma ha deciso di tornare in Italia. Noi ve la raccontiamo questa storia, ve la raccontiamo tra un attimo. Restate attaccati al televisore, per favore, ne vale veramente la pena, tra poco. Allora, è un uomo di straordinaria conoscenza, Antonio Gangemi, professore associato di Chirurgia Generale all'Università di Bologna, responsabile della piattaforma di tecniche chirurgiche interventistiche innovative del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che è tornato in Italia, ha lasciato un Peru, come si dice nell'America del Nord, ed è tornato a casa in Italia per mettere a disposizione di tutti noi la sua infinita conoscenza. Una decisione del genere, quanto è stata impattante sulla sua carriera? Lei ha una carriera straordinaria e la porta avanti in maniera straordinaria a Bologna. Ma lei ha fatto un salto importante, professore? Sì, è una decisione importante, che non ho certamente preso alla leggera. Devo dire però, è anche una decisione non basata, diciamo così, sull'emozionalità o improvvisata. Cioè, è sempre un desiderio che ho avuto dal primo momento che mi sono trasferito negli Stati Uniti, di ritornare in Italia, a un certo punto, portando nel mio paese la professionalità, l'expertise acquisita dall'altra parte. Quindi, è un desiderio che è sempre stato lì e ha anche impattato, non solo professionalmente, ma anche la mia vita, diciamo così, personale. I miei bambini parlano l'italiano, come i ragazzi della stessa età, più o meno, fanno gli stessi errori grammaticali, del loro equivalente in Italia, hanno il doppio passaporto e quindi ho sempre cercato di mantenere… Bella opera, devo dire, questa operazione è riuscita in maniera perfetta, tre volte su tre, proprio. Sì, sono molto fortunato, sono dei bambini molto intelligenti, molto dolci, abbiamo un rapporto meraviglioso, ci sentiamo tutti i giorni. La mia vita sociale ruota intorno a questa ora di Google Meet che facciamo ogni sera. Anche perché c'è una differenza di diffuso orario. Esattamente, ci sono sette ore di differenza di diffuso orario e noi ci parliamo quando loro escono da scuola, per noi è sera tardi e quell'ora per me è l'ora più importante della giornata. La più dolce e la più importante, chiedo cosa hanno fatto a scuola e tutto il resto. Allora, onde non immaginate che la decisione del professor Cangemi sia venuta così, se mettiamo a paragone i due modi di gestire la sanità in America e in Italia, fatto salvi sempre delle sacche dove anche in America chi, per dirla tutta, non ha una lira o un dollaro può essere curato. I fratelli Kennedy, se ne fecero un punto d'orgoglio, li fermarono prima, come sappiamo, perché potesse esserci una sanità per tutti e dopo di loro tantissimi altri. Non è esattamente la stessa cosa però America-Italia, forse c'è stato anche questo nella sua decisione, professore. Sì, assolutamente. Sono veramente due mondi completamente diversi e mi riferisco non solo all'aspetto più puramente professionale, quindi della medicina o nel mio caso della chirurgia, ma anche dal punto di vista con cui è organizzata la sanità. E le devo dire con molta sincerità che questo secondo aspetto è qualcosa che io non ho mai accettato completamente o di buon grado. Ho avuto la fortuna di lavorare a Chicago in un ospedale pubblico universitario, l'Università dell'Illinois a Chicago, che quantomeno è un ospedale che era aperto ad accettare qualsiasi tipo di assicurazione, incluso quelle assicurazioni che vengono, diciamo così, tra virgolette, elargite dallo Stato per le persone che sono sotto il livello di povertà, oppure per gli anziani, insomma le persone che hanno superato una certa età. Però, se mi permette, così comunque rimaniamo nel contesto di un sistema sanitario privatistico, ben diverso, diciamo così, dal privato che noi abbiamo in Italia, che penso, io insomma vorrei considerarlo, credo debba essere considerato una risorsa che va a complementare il sistema sanitario nazionale, mentre di là in America è un sistema privatistico basato sulle assicurazioni. La stragrande maggioranza di queste assicurazioni sono assicurazioni completamente private e, ripeto, c'è una proporzione di assicurazione virgolette statale che però è riservata, insomma, a un gruppo, diciamo così, molto limitato. La dico biecamente, se vuoi entrare al pronto soccorso devi avere tra i denti la carta di credito, ma l'ho detto io, non l'ha detto il professore, però il senso è anche questo. E tutto questo non è un giudizio di merito, sia chiaro, perché il professor Gangemi è riuscito a fare una cosa meravigliosa, ha costruito un ponte, decisamente virtuale, tra la sua Chicago e la sua Bologna. Quindi questo ponte è molto lungo, questo ponte fa sì che, per esempio, tantissimi giovani che le incontrano a Bologna, è una splendida città universitaria, dove ci sono anche tantissimi studenti di medicina che poi si laureano, diventano dottori e arrivano presso di lei. Ecco, lei è arrivato anche a portare in quel ponte lunghissimo tutta la sua conoscenza. Lei fa cose che per lei sono la regola, professore, ma sono difficilissime per noi da immaginare. Cioè la chirurgia che lei realizza è, sembra uscita da un film. A questi giovani quanto insegna? L'insegnamento rappresenta una parte molto importante della mia professione. Mi ha sempre interessato, mi ha sempre appassionato, tant'è che a un certo punto a Chicago, presi questo privilegio, si dice in America, più che responsabilità, di organizzare il training in chirurgia robotica per la scuola di chirurgia generale. Ho cominciato a lavorare in questo senso anche a Bologna, tra l'altro stiamo conducendo un corso di simulazione in chirurgia robotica che coinvolge gli studenti dell'Università di Bologna e anche degli specializzanti della chirurgia generale. È il primo che organizzo, spero che ce ne siano tanti altri e sempre più ricchi e numerosi. Questo è un bello squadrone, devo dire. Questa è una foto a cui tengo veramente tanto perché è la mia prima classe, il mio primo gruppo di studenti dell'Università di Illinois a Chicago che hanno fatto parte di questo corso che ho importato dal Canada, si chiama SID, Surgical Exploration and Discovery, è un corso che dura due settimane. Pensi un po' per studenti di medicina che hanno appena concluso il primo anno della scuola di medicina per stimolare l'interesse verso la chirurgia, perché ahimè stiamo vivendo una situazione di difficoltà di reclutamento di giovani chirurghi, non solo in America, ma anche a livello globale. Senta professore, lei è un uomo anche di splendida fede, è nato a Catanzaro, ha studiato a Roma, a Padova, ha avuto una famiglia alle spalle che ha fatto molto bene la sua famiglia, ma ha creduto fortemente in questo ragazzo che poteva e voleva e alla fine ha realizzato cose così importanti. La fede ha un peso, no? Aiutare l'altro, vedere nell'altro tuo fratello, puoi vederlo anche se non hai fede, ma se hai fede questo è forse una spinta ancora maggiore a fare cose buone. Assolutamente sì. Intanto, le dico subito, se non fosse stato per la mia famiglia, la mia mamma, il mio papà, la mia sorella, mi sono sempre stati vicini, mi hanno sempre sostenuto e poi se non fosse stato per la mia fede, io non penso che sarei qui oggi a raccontarle diciamo così la mia vita e le mie esperienze. Perché? Perché la fede, la famiglia e la fede in particolare ti danno quella carica in più, quella forza, a volte anche direi quella serenità di affrontare qualsiasi difficoltà. E poi un'altra cosa che ho notato, la fede, non voglio, spero di non essere, che non venga percepito come una, diciamo così, un senso di arroganza, però è la mia opinione, noi medici cattolici secondo me abbiamo modo, mi perdoni il termine, un po' politicamente corretto e diverso, non vorrei dire migliore, ma semplicemente diverso di relazionarci ai nostri pazienti. Lei accennava il mio periodo a Roma, io feci la mia tesi di laurea nello Stabulario della Cattolica perché ebbi questa idea di fare la prima tesi di laurea in Italia su una tecnica di chirurgica mini-invasiva per la rimozione della tiroide, era l'unico posto dove si potesse fare, all'epoca ricordo era il professor Bellantone che era direttore della clinica chirurgica, credo adesso sia il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità e grazie a una collaborazione tra le nostre istituzioni e il mio relatore riuscì a fare la tesi lì e fu l'occasione per fare questa esperienza formativa che è stata una delle più importanti nella mia vita professionale. Feci il corso di perfezionamento con il Cardinals Grecia all'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e lì veramente quello che è stato per me ha veramente cambiato, mi è cambiato per sempre, penso, spero, in maniera positiva. Non abbiamo davanti un soggetto negativo, se proprio dobbiamo dirla tutta, ha studiato bene, ecco questo è quello che mi sento di dire. Senta professore, lei, e queste sono quelle domande che io non farei mai, ma lei la devo fare, lei guadagna meno con questo passaggio? Lei, non entriamo nelle tasche del professor Gangemi, ci mancherebbe altro, però è un dato di fatto, ha operato una scelta che l'ha portata a guadagnare meno di quanto non guadagnasse in America. Però l'ha fatta e mi sembra anche un uomo felice, un uomo impegnato. Dal punto di vista, da questo punto di vista, dal punto di vista economico e del trattamento economico, dato di fatto, c'è una domanda assolutamente lecita, tra l'altro secondo me è anche uno spunto, è un'opportunità per affrontare, per cominciare un dialogo su questi aspetti, perché adesso diciamocelo chiaro, una delle ragioni per cui gli americani, l'America ha un'attrazione nei confronti dei professionisti, non solo italiani, ma a livello internazionale è perché pagano i loro medici, retribuiscono i loro medici, i loro chirurghi, diciamo così in maniera congrua, se non addirittura generosa. Quindi se uno, devo dire molto sinceramente, nella mia situazione, mettesse come prioritario questo aspetto qui, non ritornerebbe mai in Italia, perché è una differenza veramente grande, non è una differenza minima, ma qualcosa di veramente molto importante. Però lei ci ha messo il cuore, ci ha messo la volontà, ha messo anche una, me lo faccio dire e chiudo su questo, una scommessa. Se io sono libro aperto per tanti nuovi giovani dottori, con tutta la mia conoscenza e cultura che si arricchisce giorno per giorno, io avrò seminato molto bene e tanti alberi cresceranno in Italia e fuori Italia. Quindi la sua è calabresissima generosità. Perché voi siete Magna Grecia, non se lo scordi mai. È vero, è vero. Da lì si parte, creda, da lì. Grazie di essere stato con me. Grazie a lei. Grazie, veramente grazie, guardi, è stato un piacere conoscerlo. Signori, questa è l'Ore Solari, io l'avevo detto oggi, più che mai è esplosa con una quantità di storie, una più bella dell'altra. Grazie a tutti, ci vediamo. Via.